Abbiamo sbloccato il progetto della parete fiorita Ah, sento dei rumori abbastanza strani Sono degli insetti Oh oh, quello lassù è un alveare C'ho paura, c'ho paura, c'ho paura, c'ho paura Fatto una cazzata Ho fatto una minchiata, ho fatto una minchiata Sono sopra il pallone, non dovevo farlo Il vaso del giardino piccolo Ce la pianto io la patata che stracucchio Tre patate, perfetto, tre patate Is meglio che one Pipirastice, ok, porta via tutto Sol melone Oh oh, molto ma molto bene Mi indica un sacco di location interessanti Espansione del pallone Consente di cambiare la dimensione del pallone E aumentare il limite di carico C'è un limite di carico? Salve a tutti, io sono TheLongamer e bentornati su Forever Skies Signori, nello scorso episodio Abbiamo mostro i primi passi all'interno Di questo survival molto ma molto Post-apocalittico E devo dire che mi sta prendendo veramente un sacco A malapena siamo riusciti ad ingrandire Un pochettino la nostra aeronave Abbiamo sbloccato dell'equipaggiamento Un pochettino più decente rispetto a quello con cui siamo arrivati sul pianeta E poi siamo stati bullizzati malissimo Da un temporale che ci ha tipo danneggiato la maggior parte delle attrezzature Sul lato destro dell'aeronave Dobbiamo vedere di ripararle Prima di partire all'avventura Intanto che aspettavo per iniziare a registrare Ho raccolto con l'estrattore un pochettino di risorsine Cioè tendenzialmente polimeri e un po' di metallo Anche se il metallo scarseggia Ci sono un bel po' di polimeri Allora ho tipo l'inventario super pieno Pertanto vediamo di craftare Fin dall'inizio una bella cassa di stoccaggio piccola Che tuttavia se avete notato bene Ci utilizza anche le nuove risorse plastiche Pertanto eh, dobbiamo fare attenzione Non ne posso craftare all'infinito Anzi se vogliamo ripartire all'avventura Dobbiamo anche ripiazzare Scusa gioco, dammi mezzo secondo che non volo di sotto Il motore Lo riesci a mettere fuori? Porca miseria C'ho paura di volare di sotto Senti anche se è storto non mi interessa Va benissimo lì Dimmi che abbiamo un po' di carburante La risposta è un cocchio Un cocchio di nulla Per adesso sgnacalo lì E ok Recuperiamo questa nuova cassa di stoccaggio Che beh sì in effetti è molto ma molto piccola Ma probabilmente la lì in parte Ma il gioco dice Non ci stanno a rompere i maroni Quindi può stare tranquillamente lì sul pavimento E ha Ok Nove slot della serie Meglio che nulla Possiamo mettere qua Alcuni oggetti che allo stato attuale non ci servono Il cibo marcio lo possiamo anche tenere da parte Il gioco dice che serve Per delle risorse organiche Boh Non ho ben capito Ma lo accetto molto passivamente Abbiamo del vetro Eccoli qua I rottami di plastica Sono quelli che Dobbiamo tenere un po' più in In considerazione Droppami anche un po' di polimeri Che abbiamo in grande quantità E siamo a posto Oh oh la batteria Della nostra stazione di ricerca Ha ancora due cariche Quindi Che facciamo di bello Lonino Oddio potremmo sbloccare I rottami di plastica Visto che ci servono Quindi tu ricerca Perfetto Nel frattempo Per riparare l'aeronave In teoria Io dovrei craftare La toppa di riparazione Che come dice gioco Ripara i danni subiti Da oggetti E dispositivi Tuttavia ci fanno notare Che è monouso Ottimo Nel frattempo abbiamo sbloccato Il progetto dei Rottami di plastica Allora Toppa Vediamo un po' Cioè ti butto lì Come funziona Ok ha buttato sulla salute Mi aspettavo dei risultati Migliori Vediamo di metterla Anche su questa Ah Ripara una quantità Fissa Come potete notare E Ok Meglio che nulla Diciamo che ritira su De circa Il 40% Anche questa porta È stata pesantemente Danneggiata Porca miseria Di sti fulmini Gioco Senti Craftami un'altra Toppa di riparazione Utilizza i rottami di plastica L'ho notato solo adesso E 10 unità di Metallo peraltro Ma più che altro Mi rompe le palle Che c'è questa porta Che attira Che troppo la mia attenzione Ma l'ho riparata Perché sei ancora Tutta sbarluccicosa Forse devo portarla Al 100% Ah ok Così la smetti di rompere I maroni Ottimo Direi che Adesso siamo decisamente Molto ma molto Più a posto Allora vediamo di Lasciare il tutto Sempre all'interno Della chest E Ragazzi a questo punto Utilizziamo l'ultima carica Per sbloccare Uh I componenti elettrici Anche questi sono Difficili da trovare Allora Direi che siamo quasi pronti Volevo solo fare un saltino Non cadere Ma L'alonino Qua sotto Perché mi sono accorto Che c'era una zonina extra Che non abbiamo esplorato Buon salvino Abbiamo un circuito stampato Un altro Circuito stampato Aspetta ma c'è un'arma dietro qua Oh Non mi ero accorto Con all'interno Una grandissima Ciola di niente Mentre invece qui abbiamo Dell'elio Che se ho capito bene Ci serve per potenziare Il nostro pallone Aspetta un secondo Possiamo andare di qui La visibilità è scesa parecchio Peraltro Uh Non mi sto cacando minimamente Aspetta un secondo Posso andare anche dietro Ah Speravo ci fosse una sorta di Ah Accesso secondario La porta è chiusa Inserisci batteria Allo stato solido per entrare Sei un pezzente È l'ultima che ho purtroppo E ora ovviamente La porta si apre Buongiorno Probabilmente c'è tipo Un passaggio dall'alto Ma No Molto probabilmente no Abbiamo solamente delle parti di macchina Altri circuiti stampati Non si vede veramente Un cavolo di niente Una scheda dati Non so cosa sia Abbiamo sbloccato il progetto Della parete fiorita Ah Ok Ottimo Abbiamo una ricerca praticamente Gratuita Da quello che ho capito Questo è vuoto Che abbiamo altre parti di macchina E ancora parti di macchina Ok Dovremmo aver ripulito Completamente la zona Diciamo che la batteria Non è completamente sprecata Tuttavia Sì Non so come Ma c'è l'altra roba Anche qui Una toppa di riparazione Ottimo Ho la vaga impressione Che non abbiamo mai Craftato la torcia Vero? Credevo che fosse integrata Stiamo registrando Talmente tanti survival Nell'ultimo periodo Che comincio a confondere Gli uni con gli altri Ok Non c'è altro per me Non me la ridai la batteria Vero? Pezzante Maledetto E purtroppo per me Questo non lo posso rimuovere Fin tanto che non craftiamo Il coltello Che a sua volta ci richiede I polimeri Che al momento Tuttavia Non possiamo craftare Allora ci serviva È vero è vero è vero Del carburante Altrimenti da qua Non ce ne andiamo Carburante ovviamente sintetico Beh per una buona volta Siamo pieni zeppi Di materiali sintetici Quindi tanto vale Cogliere la palla Al balzo Come dicono i castratori Di canguri Eeeh A posto Ok Ora possiamo ripartire All'avventura Ok Ritorneremo qua Casomai In un secondo momento Hanno detto che dobbiamo Raggiungere Praticamente Una sorta di Torre Che emette Più di una luce Due luci Ce ne sono alcune E probabilmente Rappresentano le zone Più importanti Di tutto il gioco Allora Per adesso Raggiungerei invece Quelle zone laggiù Che molto probabilmente Conterranno Altro loot Importante Vediamo anche di scendere Perché sono un pochettino Più basse Non credo che ci siamo stati Nello scorso episodio Per inciso Evitiamo di schiantarci Eeeh Ah è vero Dovevamo anche craftare il radar Me ne sono appena ricordato Allo stato attuale Ci muoviamo a una velocità massima Di circa 16 km all'ora Tuttavia Direi che ci conviene Craftare un secondo motore Ma due motori Vuol dire che dobbiamo anche Produrre il doppio del carburante Eeeh No non siamo stati qua in effetti Allora vediamo di Scendere Con molta Ma molta delicatezza Piano Posso atterrare sulle foglie Sembrerebbe di sì Ok Atterraggio completo Vediamo un po' se posso Recuperare Direttamente un po' di risorse Da qui Tipo quella paretina laggiù Eeeh Non mi pare molto altro Purtroppo Siamo sicuri che le piante Ci reggano vero? La signorina mi ha notificato Che in questo luogo Ci sono oggetti Che richiedono l'utilizzo Dello scanner Giacomo mi stai Crollando in termini di frame rate Uh infatti c'è qualcosa laggiù Abbiamo trovato Un rampicante Nerboruto Che tuttavia Circhiede il coltello Per essere distrutto Sento dei rumori abbastanza strani Sono degli insetti Oh oh Eeeh Quello lassù è un alveare Ma porca la miseria Non ho nulla con cui difendermi Ehm Allora vediamo un po' Di passare da qui Piano Piano cosa Abbiamo dell'acqua piovana Io dovrei avere delle bottiglie Perfetto Mentre invece No no Qua non mi lasciano proprio passare Ah che gran fregatura Giusto un'occhiata Se riesco a trovare qualcosa di qui Abbiamo Cibo marcio Dannazione Vabbè portalo via Probabilmente ci potremo produrre del concime in futuro Ehm Buon salve Queste piante bloccano il mio passaggio Ah mi serve il coltello Dannazione Uh ho trovato un ciano floris Non so cosa faccia Ah mi ha sbloccato la ricerca Del Kit di pronto soccorso Oh Quindi forse una risorsa di base Indispensabile Per produrlo Allora so che una minchiata Salva la partita Cos'ho mai ricarico Vado a dare un'occhiata là sopra Sperando che le api Non mi attachino tipo a vista Oddio mio Potrebbe essere un bel problemone Se gli sto abbastanza distante Dite che Aspetta Ignoratemi 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 Ok E' andata meglio del previsto Allora Vediamo un po' se c'è qualcosa Che possiamo scansionare Come questo strano oggetto E' un vaso da giardino Piccolo fuori uso Però mi ha sbloccato il progetto Del vaso da giardino Ehm Presumo che si Sono tutti lo stesso oggetto Vasi e semi I nuovi vasi da giardino Sono perfetti Non serve altro che un seme Dell'acqua E la pazienza di attendere E con del fertilizzante La crescita è ancora più rapida Vale la pena ricordare Che alcune piante Non hanno semi Ma vengono piantate direttamente Come le patate Altre invece Presentano semi Che vanno raccolti Insieme al frutto Ma non tutti i frutti Contengono semi adatti alla semina Uh ragazzi Devo fare il piccolo biologo qua Peccato che possa coltivare Solo patate e fiori Nei vasi piccoli Per piantare un cespuglio Ho bisogno di un vaso grande Minchia Crafta un vaso più grande Porca la misera Non mi pare un concetto così difficile Aspetta 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 Abbiamo le patate Ovvero delle solanace Oh Perfetto E richiede quello appunto Il vaso del giardino piccolo Allora portiamocele via Che come ho detto Casomai le piantiamo a casa Posso entrare qua dentro Perché abbiamo creato un buco Avendo distrutto il vetro Però non è che mi fidi più di tanto Vediamo se c'è un'entrata secondaria Ah Ho paura di cadere di sotto Probabilmente se mi baggo Io ce la faccio Hai detto tra noi Basta che faccio Un po' così Petà Petà C'ho paura C'ho paura C'ho paura C'ho paura Ho fatto una cazzata Ok Dopo questa caduta Per la mia grandissima gioia Ho perso il 20% Del mio equipaggiamento Valeva la pena provare Dannazione Perché altrimenti Non so veramente come entrare Senza poter far fuori Quelle maledettissime api Oh tu guarda Non possiamo più fare le ricerche Non abbiamo proprio batterie No eh gioco Ci tenevo Porca la miseria Avevo bisogno del tuo aiuto Del tuo supporto Allora Vediamo un po' Se abbiamo qualcosa di nuovo Ed interessante Oh I rottami di plastica Ora li possiamo ricraftare Con 20 materiali sintetici Un'ottima notizia Mi sa che avrei fatto bene Probabilmente A sbloccare il progetto Del Del radar Sicuramente ci avrebbe aiutato Ok allora Poco male Poco male Vediamo per adesso Di Levare le ancore Nel vero senso Della parola E Proseguiamo verso la prossima zona Prima o poi Troveremo una batteria Che ci permetta Effettivamente Di Continuare Con le nostre ricerche Che ci permetta quindi Di sbloccare Qualche nuovo oggetto Quella sembra una torre Molto importante In quella direzione C'è comunque una torre A due lucine Quindi Come ho detto Secondo me sono quelle Che contengono materiali Importanti per proseguire Nella nostra esplorazione Certo mi stupisco Che non abbiano inventato Dei pannelli solari Che permettano Di ricaricare le batterie O quantomeno Non li abbiamo ancora trovati Allora Eccoci arrivati Lonino Atterra sempre Con molta calmina E olle Perfetto Un atterraggio Un atterraggio Veramente meraviglioso Aspettate che Vedo di signacare Altro Sì lo so Signora dopo vado a mangiare Dicevo Signacco dell'altro carburante Non siamo neanche messi Così tanto male Spero di avere altro cibo Nelle Cosa che abbiamo ancora Una vecchia razione di cibo Della serie meglio che nulla E sta sola nacea Oh Scadono Perfetto Ottimo 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 Come mi dai le buone notizie Tu gioco Pochi ci riescono Senti Vedi intanto Di consumarti quest'acqua Così abbiamo liberato Un po' di spazio Nell'inventario Abbiamo dell'acqua Contaminata Da Ah Devo imbottilare la potabile E No volevo mettere quella Quella contaminata Come al solito Sei utile come un calcio in culo Gioco Ah Si è messo anche a piovere Speriamo che la pioggia Non mi faccia ammalare Perché sto gioco Con le malattie Proprio ci va a nozze Già lo scorso episodio Non ho provato a farmi fuori Allora Abbiamo Rottami di plastica Grazie coso Posso entrare da qui Bene Componenti elettrici Carbo Eh Posso passare Devo entrare Grazie Carburante sintetico Parti per macchina Il poster Unisciti al progetto ossigeno E siamo un po' tardino qua eh Ma vabbè dettagli Carburante Parti di macchina Vai Top di riparazione Parti di macchina E Speravo di trovare Qualche nuova ricettina Pronta all'uso Ma la delusione È sempre dietro l'angolo Top di riparazione Così non le devo craftare io Buiume Non vedo niente Gioco Una torcina Mi farebbe popo Tanto comodo Altre toppe da riparazione Oh Buongiorno signore Come va? Tutto bene? Gradisce una veloce scansione? Gioco dice col cocchio Non è un personaggio importante Ah Vediamo se è qua saltare Di No Tutto calcolato Non mi sono spaventato Proprio per niente Ok Vediamo un po' Se riusciamo a disattivare Almeno questa antenna E che vuol dire? Recuperare Sì Un'ulteriore batteria Allo stato solido Finalmente una buona notizia Oh Meno male Non sapevo come proseguire Posso scendere? Ho fatto una minchiata Ho fatto una minchiata Sono sopra il pallone Non dovevo farlo Ci saranno sicuramente I danni da caduta? Oh Ok Tutto calcolato gente Tutto calcolato Oh Il paradiso della monnezza Grazie Non ho capito perché Non l'abbiano buttata di sotto Voglio dire A sto punto Non penso che ti pigli Le peggio denunce Su un pianeta Completamente disabitato Ma Vabbè Erano tutti ambientalisti A quanto pare Oh Aspetta Ma c'è un piano inferiore Bene Guarda Finchè non mi richiedi Una batteria Per aprire qualche porta Io sono un momento Molto felice Come faccio a passare Qua Dannazione In effetti Il gioco mi dice Che questo pannello Può essere rimosso Dalla nostra aeronave E un'ottima notizia Possiamo ripartire Dieci secondi E distruggerlo Molto ma molto Rapidamente Allora Ne approfitterei Intanto Tra un po' Devo anche andare a dormire Oh Per fare qualche altra ricerca Come per l'appunto Il radar Di localizzazione Aspetta Mi ha richiesto Qualcosa di molto importante Una risorsa rara O mi sbaglio io Vaso da giardino piccolo Richiede del cibo marcio E materiali sintetici Ok Vedo che non recuperi automaticamente Le risorse dalle ceste E sta cosa non mi piace proprio per nulla Ecco qua Ottimo Ritornando a noi Ricerchiamo quindi Il vaso da giardino piccolo Ce la pianto io La patata Che stracucchio Allora Datemi mezzo secondo Quindi che come detto prima Ci solleviamo Eeeh Vediamo in qualche modo Di Grazie care Rimuovere quello stracocchio Di pannello Dovrei essere orientato Abbastanza bene Vediamo un po' Si Dai che lo inquadro Non rompere le balle Ok ce l'abbiamo fatta E tipo sparito Aspetta 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 che posso rimuovere Anche altre parti Senza il ben che minimo rispetto Vediamo un po' Se riesco a prendere Un po' di materiali A distanza In effetti Mi hanno dato un bel po' Di metallo Ehm Direi che è giunto il momento Di pensare un pochettino Al cibo Quindi Vediamo intanto Di buttare giù Un'esca E continuiamo A ricercare I circuiti stampati A questo punto Mi sembra La scelta migliore Visto che Come ho detto Sono risorse Che ho avuto un po' Di difficoltà A trovare fino adesso Forza con quella cocchia di esca Io ho quanto ci vuole Che ci ho fame io Perfetto Grazie care E perché no Direi anche il trasformatore Elemento creabile Si usa per produrre Dispositivi avanzati Ottimo Ok Intanto questa Pescato qualcosa Un'intera falena Bene 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 Sgnaccamela qua dentro Abbiamo Acqua potabile In grande quantità Buono 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 Mettici dentro la falena Cucina il tutto La falena Come la faceva la nonna Ok Possiamo vedere di Riatterrare Appena possibile Allargo Ancora un pochettino La La nostra navetta Ah È pronta Gnammete Pancia mia Fatica panna In verità Riempito molto più Del previsto La falena nutre Veramente un sacco Ok Vediamo un po' Cosa possiamo quindi Sì c'ho scusa Non ti volevo far correre Ah ah No 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 Non cadermi sotto Non cadermi sotto Non Porca trota Almeno abbiamo recuperato Dei rottami di plastica Di cui non mi ero accorto Sono cagato Spruzzo Va Ce ne erano anche da questa parte Non me ne ero accorto Perfetto A parte che possiamo scendere Anche da qui Va Va Molto ma molto più semplice Si stottizia un pochettino Imbrana Tonino dovevi entrare dal tetto Razza di imbecille Aspè ma c'è ancora la parete Aio Ma è un gonplotto Mi hai rimosso il resto Ma non questi Porca trota Datemi mezzo secondo Non è un concetto difficile Quella dovevi rimuovere Oh Ora in teoria dovrei poter entrare Non so cosa ho rimosso fino adesso Ho recuperato solo un bel po' di metallo Non chiedetemi da dove E non è che si è cambiato più di tanto però Gioco Non posso passare comunque Ah tannazione Probabilmente serve Dell'altro equipaggiamento Che Non abbiamo per adesso E ci permetterà probabilmente Di Di forzare il tutto Vorrei dire una minchiata Ma Ok Sono riuscito a rimuovere il pannello Ok Contro ogni aspettativa Perfetto Abbiamo dei componenti Elettrici Dimmi che mi sono rotto le palle Per un valido motivo Tutto qua No no Aspetta 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 Componenti elettrici Perfetto Vai 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 Ok 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 Dai Non Tecnicamente ho solo sprecato tempo Non ho sprecato risorse Ok devo far dormire anche sto povero Cristo Perché c'ha il fiatone ogni 1,8 secondi Si sforza anche per scoreggiare Ok raggiungiamo quindi la prossima location E casomai poi facciamo tappa Alla successiva Senti tu Mantienimi intanto alla velocità E io mi diverto a craftare Altro carburante E appena possibile anche quel cocchio di radar Vediamo un po' se posso procurarmi delle risorsine Che ne abbiamo consumate un po' Ed è ripartito il big maltempo Giacomo mi servirebbe tendenzialmente del metallo Se non Se non chiedo troppo Perché a polimeri siamo messi bene La nave è stata danneggiata Porca miseria Abbiamo sbattuto su uno di quei cosi purtroppo Poi là Sembra che siamo quasi arrivati Quindi ferma 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 Rallenta Calami di nuovo questa Oh miseria Abbiamo fitolesche Vediamo un po' di No Non mi serve produrne un'altra Ne avevo una da parte all'interno delle chest Quindi Tec E segnala Direttamente qui Mi pare di aver visto il progetto anche dell'esca media Non vorrei dire una Una cavolata Ok Una pioggia normale Quindi non mi preoccupo per adesso Devo capire cos'è questa ricarica strumenti Usa batteria Allo stato solido Per ricaricare gli strumenti di base Ma non è Non è per quello che Inseriamo le batterie Vabbè non importa Sblocca il progetto E vi sono tutti felici e contenti Allora Vediamo un po' cosa ci serve invece Per quello stracocchio di Radar Radar di localizzazione Richiede del rame Ehm Non so se Arrivo coso Tu rompi le palle quando ci metti L'ho messo qua dentro No Lonino l'hai finito Ecco Questa era una notizia Che non mi fa per nulla piacere Aspettate che troppo qua dentro un po' di risorse Perché Ah avevo ancora del carburante Che davvero E voilà A posto Devo averlo craftato Senza rendermene conto Qui mi hai recuperato Una bella Lattu No L'ho mangiato Scusi Non dovevo mangiarla Ho premuto Parca trotta Di solito premuoi per calare l'esca Questa volta ho utilizzato lo stesso comando E invece mi ha fatto mangiare il cibo Lonino Ehm ragazzi Sono cose che capitano Qui Percorso dell'esca Ho costruito C'hai ragione Vabbè comunque un po' mi ha nutrito Signora che vuol dire altitudine bassa Ehm Io sono dove voi mi avete mandato Non rompete le palle Non mi dite che rischio di prendermi qualche malattia Perché ne avrei già un po' le palle piene Onestamente Comunque la mia immunità è alta Quindi non dovremmo avere troppi Troppi problemi Allora facciamo una bella cosa Per adesso vediamo di andare a dormire intanto Così mi ripiglio giusto un attimino Lo so signora Tanto acqua ne abbiamo E col cibo si combina Ma almeno riesco a fare due passi Senza svenire All'improvviso Allora ciccio vedi di bermi quest'acqua Anche quest'altra acqua Ottimo Ah già Le patate stanno per scadere Aspetta Come si craftavano i vasi Merda mi serve Molto più cibo marcio Oh ma dai Ma non ci credo mai nella vita E ne ho solo uno io purtroppo Mi sa che questa sola nacea diventerà molto presto Del cibo marcio Ma è davvero un complotto internazionale Allora salva la partita E vediamo Di esplorare questa location Vediamo un po' se troviamo Ok ok Non è poi così male Perché vedo altro cibo marcio Anche qui Forse riusciamo ancora a salvare la situa Che miseria C'ho un cago di volare di sotto Perché sto tizio è leggermente impedito Ce la fai a prenderla Un sol melone Vabbè Aspetta 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 Ho visto Ok ce l'abbiamo Aspetta che ora devi ritornare sul lonino È facile a dirsi che fa Erca la lì Erca boiazza Come torna Suspetta Ok a posto Ammetto sto tizio ogni tanto Si muove come un paziente geriatrico 85enne Allora Craftiamo finalmente quel vaso piccolo Ciccio hai ancora 2 minuti e 7 secondi Se ti dai una mossa Che faccio Ingrandisco ancora La nostra aeronave O no Per adesso accontentiamoci Dello spazio che abbiamo Perfetto Allora Vabbè è una struttura abbastanza piccina Piccio non rompe neanche troppo le palle Guarda la possiamo anche segnacare qua fuori Ottimo Piantiamo Per adesso La sola nace Qui Uno E Oh porca miseria No non ho bastate risorse per craftare Un'altra Dobbiamo aggiungere dell'acqua Ottimo 5 unità di acqua Mi sembra un bel po' di acqua Forse cresceranno quindi 3 patate Ma io il seme l'ho già piantato Gioco perché mi dici di ripiantarlo Non lo so Non lo so Procediamo per gradi intanto Aspetta un attimo Mi sono accorto adesso Che abbiamo un sacco di bottiglie Perfetto Grazie coso E di acqua contaminata Pertanto Vediamo di metterle qua dentro Ok facciamo tutto in una volta sola Ottimo 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 E a sto punto Il Sol Melone Me lo segnacchi qui Lo cucini con un po' d'acqua Così per adesso Almeno mi posso nutrire Della serie Meglio che nulla In attesa Quanto meno Che Sta roba cresca Ma devo aggiungere per forza Del fertilizzo Ah devo confermare io poi Ok 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 Pianta così E poi attendiamo 3 minuti Ok mancava un passaggio Ok pazientiamo E Qualcosa sta crescendo In effetti Va che ste tecnologie del futuro Sono assurde figlioli Ok Ok il sol melone Di patate Perfetto Perfetto Aspetta che passo da di qua Oh oh Sento il rumore delle Delle api Mi sa che sono tipo qua sopra Aspetta che ci sono anche i fiorellini Quelli buoni Buono 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 Vieni da papino Domanda da un milione di dollari Ste piante non va Ste piante vanno male Porca miseria Pianta decorativa fragile Si pensava che fosse una specie estinta Tuttavia mi ha dato anche il seme Del cianofloris Quindi Probabilmente Tutto calcolato La possiamo coltivare Anche noi stessi Imbottigliamo anche quest'acqua Ottimo Vediamo se un po' Se mi fanno passare Pipirastice Ok Porta via tutto Sol melone O come cocchio si chiama Ottimo Abbiamo anche del Cibo marcio Me ne dai un altro po' Perché io devo Coltivare dei Dei campi e tutte cose Aiuto Aiuto Ok Ho trovato un'altra location Molto ma molto buia Buon salve Lucchetto rotto Grazie delle ottime notizie Una scheda dati Con il progetto Dell'angolo di osservazione Ah E una parte angolare Probabilmente Per la nostra aeronave Aspettate che Faccio una fatica assurda Senza la torcina E niente Questa porta Non la posso sfondare Ciccio ma un paio di calci Gli puoi tirare anche tu eh Porca trotta Della gente impedita Ah La visibilità è pessima Che stracocchio Devo capire come Cocchio salire sulle scale Posso No non posso saltare Che casino Posso passare Da di qua Ottimo Vediamo un po' Se riesco a recuperare Un'ulteriore batteria Che tanto schifo Non mi fa Da quello che ho capito Le mappe sono generate Proceduralmente Quindi Carca misura che Devo su un'ape Ogni mappa Dovrebbe essere Differente Oh oh Ciao ragazzi Mi tolgo le balle Molto in fretta Prendo solo la batteria E via Ok Dicevo differente Dalle altre Ottimo Allora vediamo di Ce la fai a calarti Di sotto No eh Devo utilizzare la scala Grazie caro Gesù quanto piove Peraltro potrei Anche recuperare L'acqua piovana Se volessi Ora che ci penso Oh le patate Sono pronte Nel frattempo Belle loro Le posso anche Lasciare lì Credo Allora Gioco salvo in top Puoi craftarmi Un altro Vaso da giardino Piccolo Qui Possiamo recuperare L'acqua Inventario pieno C'hai ragione Porta pazienza Perché non so più Nemmeno io dove Signaccare la roba Senti Puoi riordinarmi il tutto Che sto a fare una confusione Di proporzioni bibliche Signacami qua Questo Questi li puoi unire Tra di loro Madonna Ho fatto fuori Praticamente tutti i materiali Sintetici Questo è un bel problemone Unisci le parti di macchina Olè E abbiamo Un altro Vaso da giardino Piccolo Se ecco Senti Sgnaccalo Tipo Ottimo 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 E avrà bisogno Di una grande quantità Di acqua E ovviamente Aspetta Se mettessimo Il pepe erastico Lo posso mettere Dite che No A gioco non piace Dice assolutamente no Tecnicamente non è un seme Dal suo punto di vista Ah Neanche il solmelone È un seme Il seme di cianoflori Sì invece Va da sé È un seme E niente Continua A piantare patate A sto punto Perfetto Aggiungi Cinque unità Di acqua Ottimo E detto tra noi Se io recupero La patata 1 E la Patata 2 Quanta acqua c'è ancora Ah è pieno pieno Perfetto Perfetto In teoria lui mi dà Quattro patate Ne abbiamo più del previsto Quindi tecnicamente Una La puoi mettere qui La cucini Con l'acqua che abbiamo già Le altre Le rimettiamo qui E le continuiamo a piantare Oh Tecnicamente possiamo avere Una farm infinita Fintanto che c'è abbastanza acqua Perfetto Ah Non mi ero accorto Che gioco ci richiede Di edificare Una nuova parete Una parete Ok Non mi va di sprecare Le risorse Ma se me lo chiede il gioco Chi sono io per lamentarmi Una parete fiorita Ma richiede della biomassa Una parete in plastica Sembra la cosa migliore da fare Quindi Va doinket A posto È un po' grezza Ma Falso sporco Lavoro Anzi Ci possiamo addirittura Mettere il poster Va Va che spettacolo Ragazzi Incredible Ricordatemi un po' Cosa che ci serviva Per il cocchio di radar Me ne sono dimenticato Ah Il rame Di cui non disponiamo Manco per il cocchio Allora Recuperiamo questa Bella patata cotta Che ci dà Più 30 di cibo Magnala Magnala Patata cotta Is the way ragazzi Possiamo andare avanti A patata Da qua Fino alla fine Dei tempi Perfetto Stanno crescendo Sì E di qua Perfetto Perfetto Non so se abbiamo Tipo la farm infinita Per inciso Ma di certo Siamo messi molto bene Guardate che intanto Vedo se recuperare Del vetro Vediamo se ce la fa E ce l'ha fatta E non credo Che posso portarmi via altro Poco male Poco male Allora Nel frattempo Direi quindi di Salvare la partita E ovviamente Ripartire All'avventura Dove erano quelle Doppie luci Ah eccole qua Perfetto Dovremmo arrivare In poco e nulla Se siamo fortunati Troviamo le risorse Che mi mancano Allora impostiamo la rotta Manteniamo la velocità E intanto Lo ziotelone Si diverte A raccattare Ah fuori portata Maletto bastardo Eventuali risorsine Beh diciamo che questa Era l'intenzione Solo che Non sta spawnando Mezza risorsa Neanche a pagarla Ma porca di quelli Per porca Non mi lasciare Così tanto sul bordo Ecco per l'appunto Sono davanti a me Ah uh Vedo Qualcosa di molto Giallino lì Non so cosa sia Ma vabbè Dettagli Ditemi che è del rame Aspetta 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 Ferma tutto E portami un po' Più in alto Non so di quanto Posta lì Si la so signora Dopo vado a mangiare Ancora Signora mi sono mangiato Già 841 Patate E la risposta E la risposta è Si E' del meraviglioso rame Con in parte Non chiedetemi cosa Era solo una sorgente luminosa Quello laggiù è rame Si 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 Perfetto Così posso craftarmi quel cocchio di radar Non so neanche se ci posso arrivare Per Dovere di cronaca Però Ora nessuno mi può fermare Craftiamo il radar di localizzazione Ragazzi Ci è andata decisamente Molto meglio del previsto Ok Dopo me magno la patata Provo a vedere Se in qualche modo Riusciamo a raggiungere La nostra destinazione Allora Vediamo un po' Se mi fanno salire ancora un po' Si Bravo bravo Ecco Magari evitiamo di schiantarci E Si Possiamo arrivare alla piattaforma di atterraggio Oh Che culo C'è un sacco di rame Bene 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 Dopo Prima di lasciare Codesta location Vedrò di recuperarlo tutto Ah Posto Mi sembra che Le spore là sotto Abiano un colore differente In questa zona Oh Ok Modulo gravemente danneggiato Cosa Cosa danneggiato Ma Non mi prenda per il culo Non mi faccia venire ansia signora E' tutto a posto 95% Ok possiamo dire che la signora E' un attimino imbriaca Allora mangia di questo Ok Grazie patata Ottimo Bene Sono pronte anche di qua Oh io continuo Spavento Su un cagato in mano Ah paradossalmente Quando arrivo in queste zone Ci sono molte più risorse Che spawnano tutto E torno a me Stile banca mediolanum Oh Alleluia I metalli Quindi si E' la location perfetta Per Prendere tutto ciò Di cui un tè Dai Di cui un telone Ce la puoi fare Potrebbe Necessitare Bene 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 Anche perché come avrete notato Abbiamo già utilizzato Una quantità incredibile Di risorse che avevo preso Prima di iniziare l'episodio Ok sembra che stia anche Sorgendo il sole Una buona notizia Ok Allora lo vogliamo installare Sto cocchio di radar Vediamo un po' Oh Oh Ok No lo mettiamo Che se lo metto qui davanti Poi io non vedo più Un cocchio di nulla E se lo mettessimo Tipo un po' più basso E che è un casino Ok senti Mettiamolo leggermente Spostato di lato Oh oh Molto ma molto bene Mi indica Un sacco di location interessanti Vedete ci sono anche i simboli C'è la leggenda Quindi queste sono zone Con le piante Molto probabilmente Che vuol dire La freccina verso il basso Che sono più in basso Rispetto alla mia altitudine Attuale Se dovessi ipotizzare Oh Questo radar Ci svolta completamente La giornata figlioli Meraviglioso Meraviglioso Com'è il mio inventario E insomma Non è neanche poi Così tanto malaccio Allora risalva la partita Che vorrei evitare di tirare porchi Allora Vediamo un po' Cosa ci attende di bello Sì abbiamo un sacco di rame E null'altro qui Quindi Devo assolutamente craftare Un altro di quei Di quei raggi Ma lo posso già produrre O è un progetto Che dobbiamo sbloccare Effettivamente Estrattore di ponte Richiede Un trasformatore Ma Il telone aveva già sbloccato Il progetto per craftare Il suddetto trasformatore No Ma Che ho sbloccato prima Ero convinto al 100% Perché qua non c'è Vedete che non Non c'è Uh eccolo qua L'estrattore Ne parlavo lo scorso episodio Estrae le risorse grezze Dai resti degli oggetti Raggio d'azione limitato Quindi la versione portatile Per l'appunto Di quello che abbiamo lì in parte Però Va da sé Utilizzerà le batterie Per la mia grandissima gioca Ah beh Come costruttore dell'astronave Espansione del pallone Non mi ero accorto Ci fossero più schede Ma mi prendete in giro Espansione del pallone Consente di cambiare La dimensione del pallone E aumentare il limite di carico C'è un limite di carico? Non lo sapevo Però mi richiede dell'elio Abbiamo trovato Per mia fortuna Tre bombole di elio Quindi vediamo di equipaggiarle E sbloccami La ricerca Quanto meno Dell'espansione del pallone Quindi possiamo ingrandire Il nostro pallone qua sopra Uh Perfetto Ricerca completata Ora devo capire tuttavia Come espandere O ridurre Il suddetto pallone E possiamo creare Anche un secondo pallone Però mi servirà decisamente Molto più elio Mi dicono dalla regia Senti deposita il rame Per adesso qua dentro Deposita anche la pasta Per le riparazioni E casomai Nel frattempo Vediamo di utilizzare Il bollitore Per cucinare Beh di sicuro Questo melone Perfetto Ci serve un altro bollitore In modo tale da Cucinare più di un cibo Nello stesso momento Presumo che se non colgo La patata In teoria Essa stessa Non avrà male Succede ciccio? C'è un po' di freddo? O sei stanco? Sottizio c'è sempre qualcosa Che non va O è una piaga Una piattola Di proporzioni bibliche Buon salvino Parti di macchina Come sempre Ah Santo cielo Se avessi quell'estrattore Potrei recuperare Sto cocchio di rame Ma se ho visto bene Purtroppo per me Mi richiede una sorta Di cristallo Di cui attualmente Non disponiamo Allora Vediamo un po' Se c'è qualcosa Che possiamo scansionare No Ma ho trovato Dell'elio Ottima notizia Un sacco di elio Vediamo un po' di sotto Come un povero Insomma ci siamo capiti Buon salve Ok sta porta si apre Prego Dammi Ho trovato del carburante Ah elio peraltro Oh porca miseria C'è un buco anche lì Spero che sia Qualcosa di molto efficiente Un circuito stampato Vecchia l'azione di cibo Mangiala subito A posto Così ci ripigliamo Un attimino Dovrei tenerle Per le emergenze Ma ora che abbiamo La patata In teoria C'è la patata ragazzi Vi svolta la vita Parola dello ziotelone Mio cugino L'ha provata anche più di una volta E ha detto Tutta un'altra cosa Volevo craftare un neon Per avere una Sorgente di illuminazione Ma invece no Potremmo estrarre del vetro Appena ritorniamo Lassopra Ok qua Non mi pare Che ci sia altro Oddio Porca Troterri Ma là ci sarà sicuramente Qua Vabbè Ci sono le scale Ogni tanto sono imbecillo Pure io Ok piano Madonna Dell'altezza E Olè Altra batteria Allo stato solido Ma mi domando Come mai questa Avesse due Lucine Due indicatori Forse perché in sé È una struttura abbastanza Gra... Aspetta Piano Buttati Ok Ho rischiato troppo Per non scendere le scale Perché avevo visto dell'elio E mi sono gasato Un cifrone L'abbiamo ripulita anche troppo facilmente Dannazione Questa cosa mi fa triggerare malissimo Ah eccolo qua il trasformatore Stava nella sezione componenti Ma va fan club Non riuscivo a capire dove fosse C'era una sezione extra Ok Ciccio tra poco ti diamo un cugino di secondo grado Però aspettate un attimo Perché Cioè se me le spari così davanti alla faccia È normale che provo a raccoglierle Guarda c'è anche il metallo Che non è neanche troppo distante Fatto sta che dovremmo Craftare altre piattaformine esterne Dal mio punto di vista Appena possibile Grazie caro Allè E ora possiamo finalmente Costruire l'estrattore da ponte C'è ma attenzione perché Gioco dice che pesa veramente un sacco Poi scusate ma questo macchinario Deve per forza star fuori Domando per un amico Gioco dice Se non lo puoi mettere all'interno Ok ok Ci ho provato Gioco ci ho provato Ah già peccato che il condensatore Ha finito le membrane Razza di idiota Ecco qua A posto Continua a drenare acqua Come siamo messi però d'acqua Oh no Ok Ne abbiamo ancora abbastanza E neanche troppa Ne avevo molta di più Prima di iniziare L'episodio Devo craftare il raccoglitore di acqua piovana Tra poco che non Mi farebbe decisamente schifo Esca per insetti avanzata Attrae sempre qualcosa di commestibile Ha maggior probabilità di catturare prede migliori Richiede del vetro Cattroterrima Allora per craftare una passerella Avremo bisogno di 10 materiali sintetici E 5 metalli Però Senti a sto punto Craftane una lì Perfetto Ed una Anche di qua Ottimo Così facendo Aspetta No qua no Perché sennò non possiamo più utilizzare la Cosa qua delle esche E ora che abbiamo l'estrattore da ponte Lo possiamo quindi Mettere tipo Il più in angolo possibile Cercando di non volare di sotto ragazzi Perché sennò Tiro tanti di quei porchi Che il gioco si disinstalla da solo Ecco qua Vabbè Quelli non sono anche a recuperarli Perché danno davvero troppe poche risorse Ma posso divertirmi Finalmente a ripulire le zone Da ambei due i lati Oh mio dio Non avete idea di quanto mi semplificherà la vita tutto ciò No Posso prendere rame? Sì Me l'ha preso comunque Bene 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 Qui là Il paradiso del metallo da questo lato Perfetto Per adesso Possiamo anche levare le tende Se devo essere onesto con voi Siamo messi veramente un sacco bene Dovrei riposarmi appena possibile Aspettate che intanto mi mangio Sto coso cotto Mi ha ridato anche un sacco di acqua Perfetto Allora guardiamo un po' il radar Ci sono dei punti di interesse Che attraggono di più la mia attenzione Rispetto ad altri Un chilometro e settantadue In quella direzione Wow Vedo un albero gigantesco in effetti A patto di avere abbastanza carburante Possiamo valutare casomai Di farci un salto Allora impostiamo la rotta Cercando di stare dritti Gioco Non chiedo più di tanto E vabbè Anche se mi va un po' di lato Non cambia nulla A posto Cerchiamo di non schiantarci Sulle risorse Nei limiti del possibile gioco Grazie molto No no Quella Porca miseria Qualcosa lo prende Di sto passo qualcosa lo prende Mentre preparavo l'episodio Uno di sti cosi Mi è letteralmente esploso in faccia Non mi aspettavo Mi sono girato E me lo sono proprio in faccia Ho fatto un salto assurdo Che lasciamo stare Che è meglio Mamma mia Non so neanche quanto sia grande La mappa di gioco Ma se dovessi ipotizzare Siamo un po' più fuori dalla città E qua sotto Credo che ci sia una sorta di zona desertica Ecco perché l'ambiente ha un aspetto così tanto differente Ci sono montagne e via dicendo Cos'è laggiù? Lo vedete? Sembrano delle piante quasi demoniache in effetti Ad ogni modo Gioco Oh mio dio Non abbiamo troppe batterie Dice lui Eh oh Sono cose che capitano Cos'altro possiamo vedere di sbloccare Un kit di pronto soccorso Potrebbe tornare utile Ma Per adesso non mi fa scelare la testa Più di necessario Oh Possiamo sbloccare il progetto del pallone Vi ricordo il progetto Non il pallone Quello richiederà probabilmente Ancora più risorse Ergo Ancora più elio E dobbiamo sì allargare sto posto Grazie cara Appena Possibile Wow Ahia Abbiamo sbattuto su qualcosa Direi di sì Dicevo C'è una zona furbina laggiù Eh Poi un secondo Che Ho sempre paura di cadere di sotto Che voi non c'avete idea Allora fatemi fare una piccola deviazione È una zona con delle piante E Voglio dire Siamo in un survival Pertanto Dobbiamo assicurarci Di avere sempre abbastanza cibo Probabilmente Sto andando incontro a morte certa Apparentemente sì ragazzi Apparentemente sì Bravo Coso Tu continui in quella direzione Oh Mi domando se il radar Rileverà anche la presenza Delle tempeste In modo tale da poterle evitare In tutta sicurezza Perfetto Ah Buon salve Perché c'è qualcosa che fuma davanti Che sta succedendo Oh oh Tacota non mi piace proprio per nulla Motore danneggiato Come è un motore danneggiato Quando ce l'hanno danneggiato Cosa ce l'ha danneggiato Che sta succedendo A parte che mi stai portando Completamente fuori rotta Coso Ok dobbiamo atterrare Quanto prima C'è qualcosa che non va Devo controllare Salve Sono il telone del futuro Ci sono ancora un po' di minuti Di episodio Che vi faccio vedere Casomai Nella Nella prossima puntata E vedremo anche Ovviamente Di ingrandire A sto punto La nostra aeronave Aggiungendo un po' di spazi Rigestendo lo spazio A nostra disposizione Facciamo Una zona dedicata Alla Cultura Delle patate E anche agli altri semi Se riusciamo effettivamente A trovarli In modo tale Da gestire al meglio Lo spazio A nostra disposizione Poi vediamo Mano a mano Che andiamo avanti Perché sto gioco Mi sta piacendo Veramente un sacco Gente ovviamente Nei commenti Fatemi sapere Cosa ne pensate Se avete qualche suggerimento E via dicendo Perché ribadisco Sto gioco Nonostante sia ancora In accesso anticipato Promette veramente Molto bene Sono curioso di scoprire Anche le altre zone Che c'è un nebbione Veramente assurdo Una roba incredibile Nei commenti ovviamente Fatemi sapere Cosa ne pensate Lasciate un bel mi piace Altrimenti non avrete Più la patata E noi ci vedremo In un prossimo video Ciao ciao